È vero che dice lui il regolamento lo consentiva. La cosa strana è che il regolamento se l'era modificato da solo. C'è il regolamento spese di Ampal che consentiva i voli in business class. Quando c'era il precedente presidente, che era Maurizio Del Conte, non lo consentiva. Paurisi autonomamente ha cambiato il regolamento dell'Ampal per autorizzare se stesso ad andare in business class in America una volta al mese. In un anno ha speso, in tre mesi, quello che Del Conte ha speso in tre anni. La dottoressa Nicastro, che era il direttore generale uscente, non ha tutti i torti quando dice le documentazioni tra l'altro non ha neanche presentato tutte le documentazioni, dice la Nicastro. No, perché lo fa attraverso la società Ampal Servizi e la Nicastro, che era il direttore generale di Ampal, chiedeva dei resoconti che non sono mai arrivati. E ha potuto farlo perché poi Parisi si è approvato il bilancio da solo. Perché in Ampal Servizi... Rosetto, siete veramente incredibili. Ormai tu sei fuori laterale a lavorare, però quando io sento che uno si fa lui la regola per prendere i biglietti aeree, mi sembra una roba. La storia incredibile che conclude questa cosa è che in Ampal Servizi c'è un consiglio di amministrazione di tre persone. Uno ha votato contro, che è l'assessore del Lazio che rappresenta le regioni, il Ministero del Lavoro si è astenuto e Parisi ha votato a favore, ma essendo Presidente dice che il suo voto vale doppio. Quindi da solo si è cambiato il regolamento, si è approvato il bilancio e viveva in Mississippi. In Mississippi si fa così. Si fa così in Mississippi. Voi in Italia siete molto retrograti. C'è un tema che cozza con la retorica dei 5 Stelle e delle battaglie anticasta che è un tema, ma non è solo questo che a fronte di queste spese l'Ampala è completamente paralizzata. È all'anno zero e noi siamo alla fine della pandemia in una situazione in cui servono le politiche attive per trasformare i posti di lavoro. Il tema di fatto è quello.